Ora invece parliamo di un altro argomento molto importante che riguarda la sicurezza e il benessere in generale sul lavoro e quello che è in particolare questa sera la percezione che hanno anche i giovani di quello che è la salute e la sicurezza sul lavoro. C'è anche un concorso che è iniziato indetto proprio per le scuole per capire quello che viene percepito dai ragazzi attraverso le loro opere. Ne vogliamo parlare in compagnia di Gennaro Gaddi che viene a trovarci, benvenuto, direttore generale salute e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Allora direttore, intanto quanto e come vengono percepiti questi temi, quella della salute e della sicurezza in generale sul lavoro dai ragazzi? I ragazzi sono molto attenti su questo tema anche se può sembrare diverso questa cosa, però perché soprattutto in questo periodo la percezione è aumentata rispetto a questo importante fenomeno, soprattutto dalle notizie che sono state date appunto dalle organi di stampa sulle numerosi infortuni, il fenomeno infortunistico purtroppo è calato un poco ma esiste ancora. E ho una esperienza diretta rispetto alla percezione dei giovani perché poco tempo fa sono stato invitato ad una trasmissione radiofonica di radio immaginaria tenuta proprio da adolescenti che chiedevano come assumere comportamenti virtuosi per poter contrastare questo fenomeno che purtroppo non riguarda solo l'attività lavorativa ma anche i ragazzi perché anche nelle scuole si possono verificare degli incidenti. Sì, quindi è una sfera che comprende un po' tutta la vita, non necessariamente quella del lavoro dei più grandi. Deve essere un valore che deve essere portato nella vita quotidiana. Quindi avete pensato di rivolgervi proprio ai ragazzi delle scuole, delle scuole secondarie se non mi ricordo male, è un concorso dal titolo Salute e sicurezza insieme. Di che cosa si tratta? Spieghiamolo. Allora, è una delle misure che il Ministero del Lavoro, in particolare la direzione generale che rappresento, ha voluto oppurre in essere, mettere in campo, proprio per avvicinare ancora di più i ragazzi a questo fenomeno, a questo fenomeno infortunistico e quindi far comprendere loro che la conoscenza, quindi la diffusione della cultura e della sicurezza, sono fondamentali. Perché quando si conosce si può affrontare il rischio e il pericolo che si corre, non solo nell'attività lavorativa, ma anche appunto a scuola. È un concorso appunto che è stato bandito, che come diceva lei, ha rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie superiori. E possono partecipare con lavori di diverso tipo, no? Di diverso tipo, è libero. Infatti si lascia libera la creatività dei ragazzi, quindi ogni istituto potrà presentare un unico elaborato, che potrà essere appunto, proprio perché è libero, potrà essere una fotografia piuttosto che un fumetto, una canzone, una poesia, insomma una rappresentazione teatrale. Parlavamo tra l'altro del tema del lavoro con i ragazzi, ormai moltissimi ragazzi ad esempio hanno, usufruiscono del PCTO, no? Cioè praticamente la cosiddetta alternanza scuola-lavoro, quindi anche in quel caso lì ad esempio, loro sono in tutti gli effetti lavoratori in una certa situazione, hanno anche delle assicurazioni di lavoro. Non vengono considerati i lavoratori, ma sono coloro che si avvicinano di più rispetto al mondo del lavoro, perché sono tra l'altro i lavoratori e gli imprenditori del futuro, quindi bisogna cominciare dai banchi di scuola. È un'esperienza importante. E c'è un'assicurazione assolutamente, quest'anno è stata introdotta questa novità per questo anno scolastico, della copertura assicurativa dell'INAIL per tutti i ragazzi, per tutti gli studenti, anche nelle scuole d'infanzia, prima non era previsto, e invece prima era prevista soltanto un'assicurazione per gli incidenti avvenuti durante il laboratorio oppure in palestra. Invece adesso qualsiasi incidente possa capitare ai ragazzi, viene coperto dallo Stato, lo Stato quindi si fa carico di questo incidente. L'unica cosa che non è coperta è la responsabilità dei danni causati ai terzi, in quel caso le scuole dovranno chiedere un'assicurazione integrativa ai genitori, perché appunto non è competenza dell'INAIL coprire quel tipo di incidente. Come Ministero del Lavoro avete già fatto degli incontri, delle iniziative con gli studenti in merito a queste tematiche, vero? Sì, abbiamo fatto un protocollo di intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che è quello competente in materia ovviamente per le scuole, con l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In via sperimentale l'abbiamo svolta in una scuola di Roma, in un istituto tecnico, dove abbiamo parlato ai ragazzi con un linguaggio molto più vicino a loro ovviamente, senza elencare le norme perché può essere noioso, e anche facendo delle domande e avendo delle risposte dai ragazzi, che facevano appunto domande rispetto a come loro devono comportarsi. Ecco, sempre riguardo alla scuola, comunque alla situazione al lavoro, quali sono state le misure introdotte con il decreto lavoro a favore proprio dei lavoratori scolastici, professori, persone alleate e studenti? Perché ci sono delle novità, vero? La prima è quella a cui facevo scenno prima, appunto dell'estensione dell'assicurazione INEL a tutti gli studenti, anche professori, anche persone alleate. Per i professori e quindi gli insegnanti e persone alleate è previsto anche l'incidente in itinera, cioè l'incidente che può avvenire nel percorso casa-lavoro-lavoro-casa, insomma. Invece per i ragazzi no, è solo previsto appunto l'incidente nella scuola. Questo è fondamentale perché se si pensa che nel 2022 ci sono stati ben 60.000 incidenti nelle scuole e per fortuna nessun morto, mentre nel PCTO, nei percorsi ex alternanza scuola-lavoro, ci sono stati addirittura due morti e quindi per quello è stato istituito con questo decreto legge un fondo per i familiari delle vittime di incidenti mortali per la formazione. In questo caso qui appunto addirittura è retroattiva questa misura dal 1 gennaio 2018, quindi coloro che hanno perso un figlio, ovviamente un sostegno che non serve a lenire il dolore dei genitori, potrà fare un'istanza all'Inail entro il 18 febbraio del 2024, mentre per quelli avvenuti adesso entro 90 giorni dal decesso, per avere appunto questo beneficio che una volta accertata l'innesto di casualità appunto con la morte, verrà dato un beneficio pari a 200.000 euro. Ok, grazie, era un'informazione corretta e giusta da dare. Grazie mille, grazie mille a Gennaro Gadi, direttore generale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.